Perché sei mia, quando vuoi, ma sei mia, mia Tu vai via, ma tornerai, perché sei mia, mia Dove vai, che sei mia, quanto tu non lo sai Tanto tu non lo sai, tanto tu non lo sai Tanto che ho sentito mia benvenuti ad un'altra puntata di il palco è tuo questa vetrina vuole essere una vetrina questo programma per mettere in mostra dei personaggi dei cantanti degli autori dei cantautori che amano la musica che in qualche modo hanno inciso una canzone hanno fatto un video perché poi a fine puntata i nostri ospiti presenteranno le loro opere attraverso un video oggi è il turno di roberta scime ciao a festa ciao una cantautrice a tutto tondo 31 anni nata in sicilia si vedono i tuoi colori è però che ha vissuto da sempre in brianza diciamo vicino a lecco ho letto la tua biografia e addirittura ho capito che tu non sei figlia del karaoke delle cover ma già a dieci anni sentivi l'esigenza di scrivere le tue canzoni ecco la mia curiosità cosa cosa scrive una ragazza come te a dieci anni cosa cosa scritto le prime canzoni di cosa parlavano la primissima canzone parlava dell'importanza di ascoltarsi a vicenda si chiamava proprio così ascolta e ovviamente è stata scritta in italiano quindi addirittura subito ascolta a chi lo dicevi ai tuoi genitori ai tuoi compagni e sia i compagni sia la famiglia quindi tu hai sentito già a quell'età di cercarti un pubblico che ti ascoltasse quindi di esprimere attraverso la musica beh direi che è una cosa veramente insolita in quanto e non c'è niente di male quasi tutti partono magari cantando le canzoni di altri ecco tu componi le tue canzoni con la chitarra che ha iniziato a studiare a 14 anni e come nascono nasce prima la musica poi il testo com'è la procedura creativa sì per prima cosa compongo la musica quindi uso una serie di accordi e se sento che la melodia mi piace poi scrivo il testo quindi le due cose sono estremamente legate quindi è la musica che ispira le parole non il contrario come se la musica avesse già dentro un qualcosa che dice e tu devi tradurre questo questo concetto sono riuscito forse a spiegarlo bene perché anche la mio il mio metodo di lavoro cioè la musica che mi ispira le parole che poi dovrò dire non il contrario molto bene ecco dal 2017 hai una tua associazione culturale organizzi manifestazioni musicali di cosa si tratta sì noi abbiamo organizzato sia visite a ville chiese zone culturali del della brianza ma anche la festa della musica con il ministero dei beni culturali è stato nel 2018 abbiamo utilizzato un bellissimo cortile privato e invitato cantautori una soprano lirica due strumentisti a suonare quindi è stata una bellissima occasione beh complimenti abbiamo davanti una persona che non è egoista di solito insomma chi fa musica gli artisti in generale sono tutti un po' chiusi in se stessi pensano solo la loro carriera a loro no a mettersi in mostra invece lei oltre a scrivere le sue canzoni naturalmente avere l'ambizione di essere ascoltata però crea anche opportunità agli altri è una cosa bellissima che ti fa onore tra l'altro hai fatto parecchi concorsi e hai anche ottenuto parecchi riconoscimenti ma dato che sono tanti non possiamo dirli tutti però mi ha colpito che anche il grande mogol si accorto di te in che modo ho partecipato l'anno scorso al premio chat scuola autori di mogol e una canzone del mio ep di cui vi parlerò dopo fiume in piena ha preso una menzione speciale principalmente per il test e il tema trattato beh complimenti perché naturalmente mogol è il più grande autore vivente di test italiano che saluto tra l'altro saluto anche tutto il chat perché ho insegnato parecchi anni anche io specie negli anni d'inizio dal 97 al 99 ho tanti bellissimi ricordi al chat ed è una scuola titolatissima e prendere un premio per i testi proprio al chat è una cosa bellissima di cui devi essere veramente fiera ecco invece c'è un'altra cosa che fai anche per gli altri un gruppo in facebook si chiama gruppo musica inedita quindi l'idea non è stata mia però ma di un altro cantautore che salutiamo si chiama riccardo gommiero abita anche lui in provincia di como e quella proprio di promuovere brani inediti di artisti ognuno ha una giornata dedicata quindi al mattino viene presentato un brano al pomeriggio un altro e l'idea è proprio quella della condivisione oh mi fa veramente tanto piacere sviluppare questo concetto perché nei social sino a poco tempo fa nessuno aiutava nessun altro tutti arroccati dietro i propri profili invece questa cosa quindi tutti i ragazzi che fate canzoni inedite mettetevi coalizzatevi create gruppi di lavoro ringrazio a questo proposito anche tiziano ferro che l'altro giorno a sorpresa ha messo in instagram sulla sua storia di istrano una mia canzone e ha dato il la un qualcosa di importante quindi anche tra cantanti basta gelosie diamoci tutti una mano la musica crea una grande famiglia formata da chi la ama quindi complimenti ti interessa anche il musical la danza letteratura hai dei progetti l'anno scorso frequentato un corso di musical purtroppo però a casa del covid tutto si è interrotto quindi avevamo iniziato un bel percorso con anche il ballo ma ahimè non è andata a buon fine ti capisco ho la tournée bloccata da febbraio dai dobbiamo avere pazienza allora è uscito a giugno di quest'anno un ep non un singolo ragazzi ma un ep vuol dire quattro brani due in inglese due in italiano quindi non ha fatto solo un singolo ma una specie di album continuerai a fare le canzoni sia in italiano che in inglese per quale motivo penso proprio di sì preferisco la scrittura in inglese perché ho sempre ascoltato musica anglosassone e quella italiana solo successivamente devo dire la verità però preferisco continuare sui due filoni perché il country in inglese mi piace molto e all'estero va c'è da dire quindi sono contenta mentre in italiano dobbiamo concentrarci più su un altro genere però mi piace intraprendere entrambi i percorsi quindi roberta è stato un piacere da questa chiacchierata ho scoperto che sei una cantautrice matura una persona anche altruista ai 31 anni e quindi se nel pieno della maturità cantautorale ci ascoltiamo too late dal suo ep che è una delle quattro canzoni grazie di essere stata qui il palco è tuo grazie 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 E a dele che con la sua forza sempre vicino avrà Perché l'amore va oltre i muri che non passi Le porte chiuse in faccia L'amore va oltre il prezzo che gli dai Le tacche più non hai, più non hai Più non hai, più non hai Quante cose che più non hai